Musica Mi chiamo Matteo Orsolini, sono fisioterapista di Ascoli Piceno, lavoro, ho uno studio proprio lì ad Ascoli. Lavoro, esercito la mia professione in maniera autonoma, in regime di libera professione. E questo è, ho appena terminato il secondo anno praticamente. Musica Ho conosciuto i professori Stefano e Andrea attraverso il corso di fisioterapia guidata e da lì mi sono automaticamente legato a loro per qualsiasi forma di formazione perché ho trovato comunque competenza, un'ottima didattica, anche molto ben scandita nei vari passaggi. e attraverso appunto questa didattica così precisa mi sono trovato innanzitutto molto bene nell'acquisire nuove nozioni, nuove abilità pratiche e soprattutto un grosso incremento a livello lavorativo di tipologia, numero di pazienti e soprattutto pazienti sempre più, con problematiche sempre più complesse si affidano a me per risolvere i loro problemi. Addirittura ultimamente mi trovo a trattare anche, mi sono trovato anche a trattare un calciatore professionista per cui devo dire che la mia professione è migliorata, sia la mia attività professionale sia la mia professionalità credo sia migliorata sempre di più. Musica Come sempre eccellente, nulla da dire. Come ogni volta che mi sono affidato a un loro corso ho migliorato le mie abilità, ho acquisito nuove conoscenze per cui eccellente. Ciao a tutti, iscrivetevi pure a PhysioDoctor. Ciao a tutti, iscrivetevi pure a PhysioDoctor. Ciao a tutti, iscrivetevi pure a PhysioDoctor. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.